Certamente dopo l'inaugurazione del raddoppio della ferrovia, le ferrovie dello Stato hanno dovuto continuare a realizzare tutte le opere di contorno che non erano finite. Se oggi guardiamo la ferrovia di Andorra, mancano ancora un sacco di cose. Noi siamo molto attenti che queste cose vengano realizzate nel più breve tempo possibile, anche perché ad oggi le uniche opere di contorno che sono state completate sono quelle realizzate dal Comune di Andorra. Noi saremo vigili, saremo attenti, a breve riusciremo a portare anche alcuni pullman alla fermata della stazione dei treni in modo tale da fare questa integrazione ferro-gomma che serve ai nostri pendolari.